vediamo il capitolo 2 di che cosa parla il capitolo 2 allora il capitolo 2 parla di come tracciare i supporti alle resistenze allora parla soprattutto di cosa sono i supporti e le resistenze che cosa succede quando un supporto o una resistenza vengono rotti quindi i possibili comportamenti da adottare come si individuano i supporti e le resistenze quindi l'applicazione pure pratica sui grafici di FrixoChart vi faccio vedere come tracciare i supporti e le resistenze come trovarli e quando sono importanti in determinati casi sono importanti come il numero di volte che vengono testati la durata temporale o l'importanza del massimo o del minimo i numeri tondi e l'aumento dei volumi poi riprendo di nuovo il pullback nei supporti e nelle resistenze statiche perché le trendline sono supporti e resistenze dinamiche e c'è il riepilogo del capitolo numero 2 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti